Buongiorno, bentornati, sono Napoli TV, grazie per aver scelto anche quest'oggi la nostra emittente e sono molto contenta di ospitare l'ospite che adesso appunto vi vado a presentare, che ha accettato il nostro invito, che è un grande musicologo, giornalista, tra l'altro capo della redazione Cultura e Spettacolo del più grande quotidiano del Mezzogiorno e tra i più importanti quotidiani d'Italia, vale a dire il mattino, ma lui è anche uno sceneggiatore, un regista, uno scrittore, infatti parleremo anche del suo libro, nonché biografo del grande Renato Carosone. E con noi quest'oggi in collegamento Federico Vagalebre. Buongiorno. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti. Allora Federico, 2020 è un anno drammatico che sta per fortuna per finire, che ci ricorderà sicuramente la situazione della pandemia, tante persone che purtroppo non ce l'hanno fatta, grandi difficoltà, il nostro modo di vivere che è cambiato, ma il 2020 è anche l'anno in cui Renato Carosone compie cento anni, l'anno del centenario in qualche modo. E sarebbero stati tantissimi festeggiamenti realizzati nella città di Napoli che tra l'altro portano la tua firma, perché lo ricordiamo, tu sei il suo biografo, oltre che naturalmente uno dei più autorevoli e importanti critici musicali e studiosi della musica di tutta Italia e non soltanto. Io partirei da questo libro che faccio vedere nelle nostre telecamere, che racconta appunto Carosone cento, il racconto di Renato Carosone che ci porta proprio nel suo mondo, quello che tu definisci essere il carosuono, e poi le tante iniziative che per fortuna sei riuscito a portare avanti, come la grande manifestazione del premio Carosone da te ideata all'Arena Flegrea, e qualcosa invece che non è accaduto, come il musica, lo spettacolo teatrale che tutti aspettavamo di vedere al Teatro Augusteo. Allora, partiamo magari dal libro e di questi cento anni che rendono appunto onore a Renato Carosone, che raccontano a Renato Carosone, e quello che purtroppo ancora non è stato potuto portare in scena. Ma bene Natale, non tengo denare, mi fumo una peppa e mi vaga coca, avrebbe detto Renato, in questo frangente, in questa fine di un anno davvero orribile. L'avevamo aperto l'anno, il 3 gennaio, annunciando la festa per i cent'anni di uno dei napoletani più nobili, internazionali e veraci che il novecento abbia conosciuto. L'avevamo aperto appunto annunciando il ritorno in libreria della sua autobiografia, del libro che abbiamo scritto insieme, che tu hai mostrato prima, Carosone Cento, autobiografia dell'americano di Napoli, e annunciando un musical, che era la ripresa di un musical che avevo costruito su Salda Vinci, e che adesso avrebbe avuto Andrea Sannino come protagonista, e che avrà Andrea Sannino come protagonista appena i teatri riapriranno i battenti. Come un esorcismo ci stiamo pigliando una pastiglia, quella dell'attesa, quella della pazienza, quella della resistenza, aspettando di rivedere, o di vedere per chi non l'ha visto, quello spettacolo, che debutterà, non sappiamo quando, al Teatro Augusteo, che andrà in scena al Teatro Trianon, e poi inizierà una lunga tournée. Nel frattempo uscirà prima il disco dello spettacolo, con gli arrangamenti di Lorenzo Engel. Nel frattempo siamo riusciti, quello sì, a fare una grande festa quest'estate, insperata quasi all'Arena Plegrea, un premio carosone del centenario, con Renzo Arbore, Stefano Bollani, Sannino naturalmente, Stas, Marisa Laurito, Enzo Moscato, Mario Biondi, e tanti tanti altri giovani. C'erano quelle Banesis, che adesso sono in tv, con Massimo Ranieri, per rendere omaggio a un canzoniere prezioso. Talmente prezioso che quel canzoniere e quella storia sono diventati una fiction che Rai 1 dovrebbe mandare in onda il primo sabato dopo il festival di Sanremo, se il festival di Sanremo sarà puntuale all'appuntamento dal 2 al 6 marzo, e con un giovanissimo protagonista, Edoardo Scarpetta, un cognome importante per un ruolo importante, e tanto per regalarvi una chicca, Stefano Bollani, di cui abbiamo parlato prima, che ha curato naturalmente la colonna sonora, ha prestato le mani a Scarpetta, sulle punte delle dita, un po' di jazz, Bollani farà un camio, un'apparizione, sarà il maestro Curci, che audiziona il giovane carosone al Conservatorio di San Pietro a Maiella. Fantastico, grazie per questa chicca, per questo piccolo spoiler. Questa grande festa che c'è stata all'Arena Flegrea, noi siamo stati presenti, ricordiamo il primo carosone che è appunto una tua idea che va avanti da tanti anni, e che è tornato appunto in grande stile, come dicevi tu, con tantissimi straordinari ospiti, che hanno regalato finalmente in quel frangente anche un po' di ritorno alla normalità, e un po' di leggerezza dopo tante restrizioni, perché c'era stata la prima, apertura dopo la fine della prima fase di lockdown, quindi è stata veramente una festa non solo per carosone, ma proprio per la città di Napoli. Sì, devo dire che io ho delle emozioni molto forti di quella serata, di quella giornata, perché c'era la tensione e la paura di fare qualcosa che potesse in qualche modo mettere a rischio la salute di qualcuno. Invece poi nessuno si è infettato e l'unica infezione è stata quella dell'energia, del fronte del palco, della musica. Enzo Avitabile alla fine non se ne voleva andare più e non uno degli spettatori si è mosso. Ha fatto, non ricordo più quanti bis, ma tutti, da Mario Bionda d'Arbore, erano assolutamente entusiasti di aver ritrovato il piacere di fare musica, di condividere le emozioni con un pubblico di fronte. Era una magnifica notte d'estate, dopo erano ancora aperti i ristoranti, erano aperti i bar, come dire. Sembra che stiamo parlando di tanto tempo fa, ma io quella notte ho capito, a prescindere da carosone, ammesso che si possa prescindere da carosone, quanto ci manca quella abitudine a godere musica, ma potrebbe essere teatro, ma potrebbe essere cinema in compagnia di qualcuno, sia pur alla distanza che c'era richiesta. Che piacere ha poter stare una notte sotto le stelle all'aperto, ascoltare le canzoni e quant'altro. Federico, il tutto, tra l'altro, oltre al premio carosone, in questo anno del centenario, insieme al libro, anche una mostra che tu hai realizzato. Sì, sì, anche una mostra con degli appuntanti dibattiti, degli incontri, in maniera anche questo in qualche modo ridimensionato rispetto a quello che deve essere il progetto iniziale, però anche questo è stato un aspetto molto bello di questo anno dedicato a carosone. Sì, l'idea era di dedicarglielo davvero tutto l'anno, ossia il libro, il musical, il premio, la mostra, gli incontri. La mostra, per esempio, ha dovuto rinunciare alla sua originale formula, perché era una mostra di quadri, era una mostra che usava tantissimo il touch e non potevamo giocare con le dita. In questi momenti giochi di mani, giochi di villani, per cui abbiamo raccontato Renato e le sue arti con dei pannelli e poi l'abbiamo raccontato ai curiosi in dei pomeriggi d'estate, in dei sottoli aperi carosone, raccontando appunto il carosone musicista, il carosone pittore, che è meno conosciuto, ma anche il carosone finito al cinema, il carosone dei musicarelli, per dare l'idea di questo napoletano che probabilmente avrebbe trovato la maniera oggi di esorcizzare questa distopia mai immaginata, questa pandemia di cui siamo prigionieri. Però, lo ripeto, questi anni erano i cent'anni della nascita, l'anno prossimo sono i vent'anni dalla morte di Renato, che se n'è andato era una domenica, il 20 maggio di vent'anni fa, per cui ci sarà il musical, ci sarà la fiction, chissà che non torneremo anche col premio o con quant'altro. Ebbene che Napoli, in un momento del genere, che la campania tutta, che noi, guardiamo a questo modello di radici e di ali, a questo ragazzino che è nato dalla parte più umile e scamazzata della nostra città, si è costruito un'arte tenendo insieme tutto quello che aveva studiato, al conservatorio, ma anche nelle case editrici napoletane, nei night come nei ristoranti e gli alberghi dove andava a suonare per i ricchi signori dell'epoca. Nell'arte di Carosone si fonde la melodia napoletana col ritmo americano e i profumi di oriente, che tra l'altro aveva conosciuto in Etiopia. con le canzoni di amore, cantava canzoni di disamore, riusciva a cantare con ironia piccole commedie all'italiana. Ecco, Tuofalo americano, Piedra una pastiglia, Caravan Petrol, ci raccontano come eravamo, forse anche come siamo adesso, però senza farcela pesare, con un sorriso, magari beffardo sulle labbra. Straordinario, io ti ringrazio Federico. Un'ultima domanda, capo appunto della redazione di Cultura e Spettacoli del Quotidiano il Mattino, state raccontando la cultura da una prospettiva diversa, in un modo diverso, la stiamo vivendo la cultura in un modo diverso, ovviamente la stiamo anche non vivendo, perché tra la chiusura dei teatri, dei cinema, il fermo degli spettacoli, eccetera, però ciononostante ci sono degli scamotaggi, in qualche modo penso al San Carlo, penso ad altri eventi anche festival, in streaming, eccetera. È cambiato il modo proprio di vivere la cultura ed è cambiato anche il giornalismo, il modo di raccontarlo, anche proprio la fisicità del giornalista in redazione in qualche modo è venuta meno in questo periodo. Vedi Francesca, la fisicità del giornalista, se alludi alla pancia c'è tutta, se alludi alla redazione invece no. Ci sentiamo, siamo perennemente in collegamento. Faccevi l'esempio del San Carlo. Il San Carlo al prossimo spettacolo sarà la quarta piattaforma che sperimenta. La prima ha avuto un crollo per troppi accessi, la seconda è andata così così, la terza sembra che sia stata attaccata dagli hacker, anche se poi non l'hanno denunciato, quindi forse era solo una scusa. Adesso ce ne sarà una quarta. Come il San Carlo, molti stanno sperimentando che cosa fare e come fare. C'è chi sperimenta le piattaforme, c'è chi, come ha fatto l'Opera di Roma, ha sperimentato un modo di fare, in questo caso lirica, diverso con Mario Martone, che ha pensato a un allestimento che non fosse né semplicemente la ripresa di un'opera, né fosse semplicemente una cosa per la televisione, ma che fosse a metà strada e guarda caso gli hacker non l'hanno infastidito. Ci sono artisti, ci sono cantanti, ci sono rocker che si stanno esibendo su streaming, gratis, a pagamento, con riprese artigianali oppure con vere e proprie produzioni importanti. Comunque vada questa pandemia il contatto da remoto, come quello che stiamo avendo io e te adesso, è probabilmente qualcosa che influenzerà le nostre vite. Però sperando di tornare a quella notte dell'Arena Fregrea, a vederti dal vivo, a incontrare le persone che vogliono vedere il più vicino possibile il volto di un attore, ritrovare il fascino di un film in sala, sapendo che però nel frattempo ne abbiamo visti tantissimi a casa e che forse dovremmo liberarci anche dalla retorica di alcune cose, perché stiamo soffrendo della tecnologia che in qualche modo ci sta salvando. Immaginate se con tutto chiuso, improvvisamente, non avessimo neanche questo. Se il virus riuscisse a diventare virtuale e ci imponesse di non parlarci tramite le chat, di non vedere i cartoni animati o YouPorn, di non cercare un film, di non chiedere al nostro artista del momento ma hai fatto un disco, che storia è? Non avremmo che cosa raccontare e soprattutto che barba. Assolutamente, speriamo di ritornare a vivere la nostra Napoli, anche come tu l'hai raccontata, lo ricordiamo anche in Passione, un'opera pruripremiata, anche perché John Turturro tra l'altro ha firmato la prefazione di questo libro, quindi la nostra Napoli tra cultura, musica e soprattutto presenza, presenza fisica. Sì, perché poteva essere l'anno della grande bellezza per Napoli, il boom turistico, una nuova consapevolezza della città, indicavano un rilancio che poi chiaramente è stato interrotto dal lockdown, dalla pandemia e da quant'altro. usciti da questo tunnel bisognerà riuscire a rientrare in quel tunnel e la passione, come il titolo del film di Turturro, ci aiuta, perché probabilmente l'abbiamo capito proprio quella notte del premio Carosone e ritornarono a vedere le stelle, beginning to see the light, per passare da un'ispirazione a un'altra, dalla classicità al rock and roll. Quando torneremo a vedere la luce dovremo dare il meglio di noi, toccherà anche a Napoli, anche alla sirena per Tenope. Quando pochi giorni fa non si è liquefatto il sangue di San Gennaro, qualcuno l'ha immaginato come un presagio amaro, ma in realtà il sangue quest'anno si era già liquefatto due volte e proprio un presagio buonissimo non era. Forse è arrivato per Napoli il tempo di avere il coraggio di guardare al futuro, di non farsi schiacciare dalle tradizioni. Ci sono ragazzini di vent'anni in molti campi che sono diventati i numero uno nel mondo. Io penso a un ragazzo di Acerra, si chiama per tutti China, il suo nome vero è Pasquale Renella ed è una stella di una musica costruita nella sua cameretta. Si è comprato un palazzo, vive in Portogallo, non diamo l'indirizzo, però mostra a noi la strada. Si può fare. Grazie Federico Vacalebro, noi ti lasciamo che sappiamo che sei impegnatissimo con lo giornale e con le pagine. Ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, un augurio immenso di buone feste e soprattutto di buon lavoro. non vediamo l'ora di venire a vedere appunto i tuoi lavori in teatro e naturalmente seguiremo la fiction in televisione. Grazie a te e nel frattempo leggeteci che è l'unica cosa certa che stiamo riuscendo a fare. Assolutamente, lo vediamo una volta. Carusone Centro, l'autobiografia di Renato Carusone, di Federico Vacalebro. Un bellissimo regalo per questo Natale sotto l'albero perché la cultura aiuta anche a vivere meglio e con serenità questo momento così difficile che viviamo. Grazie Federico. Buon anno. Grazie. Grazie a voi per averci seguiti.